Ma sì, assolutamente si può e si deve iniziare dalla propria famiglia, dai principi che la famiglia diciamo così ci trasmette, anche dal nostro liceo, io ho fatto il liceo classico Parmenide, ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti di grande valore dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano e chiaramente anche il giro di amici con cui si è cresciuto, ovviamente fa tanto nella formazione, anche nella crescita umana oltre che professionale, quindi il mio vuole essere un messaggio di incoraggiamento a questi ragazzi perché secondo me se si ha voglia, se si ha passione, si ha davvero amore per il proprio lavoro e per lo studio, secondo me con un po' di fortuna si può anche arrivare a raggiungere dei piccoli grandi obiettivi personali. Ecco, lei ha anticipato già la domanda perché appunto le volevo chiedere, lei è uno dei più autorevoli esperti di endometriosi profonda, ecco una patologia come ricordava lei sempre più frequente, un punto di riferimento anche per tante pazienti che arrivano dal territorio occidentano, lo ricordava dottore? Sì, quello è un po' un orgoglio per me ecco, essere cercato da donne che vivono così lontano da Verona e da Peschiera del Garda, ma in realtà sì nel corso degli anni mi sono distinto, ci siamo distinti per proprio l'approccio a questa patologia che è molto molto particolare perché colpisce appunto delle ragazze giovani, colpisce le ragazze che vanno diciamo così dalla prima mestruazione fino alla menopausa e come vi dicevo i sintomi sono molto specifici, si va da donne che sono completamente asintomatiche a donne che invece hanno molti dolori durante il ciclo mestruale, durante la defecazione, durante la menzione, quindi è importante parlare con questi pazienti, individuare precocemente i sintomi per fare appunto una diagnosi precoce di malattia. In realtà l'endometriosi può colpire diversi organi, quindi bisogna sempre partire con un approccio medico, cioè con la terapia ormonale progestinico e estroprogestinica per bloccare l'avanzata della malattia e per ridurre la sintomatologia dolorosa, ma ahimè talvolta questa terapia medica è inefficace, pertanto a volte c'è bisogno anche di interventi chirurgici molto complessi, interventi chirurgici in laparoscopia, quindi con un approccio meno invasivo che diciamo così ci permettono di eradicare la malattia e di dare un maggiore benessere a questi pazienti in modo da far sì che la loro qualità della vita sia sicuramente migliore di quella attuale.